Cari ascoltatori di Radio Puginion Air, oggi siamo entusiasti di condividere con voi un'anticipazione straordinaria dal mondo della musica, il talentuoso e innovativo Mahmood, appena svelato in anteprima il titolo della sua canzone per il prossimo Festival di Sanremo 2024. Il titolo del brano è Tuta Gold, un momento di grande attesa che si aggiunge all'emozione per ciò che Mahmood ci riserverà sul palco dell'Ariston. Mahmood, all'anagrafe Alessandro Mahmood, è un artista eclettico che ha conquistato il pubblico italiano e internazionale con il suo stile unico e le sue produzioni innovative. Vincitore del Festival di Sanremo nel 2019 con Soldi e terzo classificato all'Eurovision Song Contest, Mahmood continua a stupire con la sua creatività musicale. La carriera di Mahmood è caratterizzata da successi come Barrio e Gioventù Bruciata, la sua partecipazione a Sanremo dopo la sua ultima partecipazione insieme a Blanco, ricordiamo tutti ancora il singolo Brividi, una bellissima canzone. Ora vedremo cosa ci riserverà, come ci stupirà con la sua creatività musicale. Di nuovo Mahmood al prossimo Festival. E sarà, secondo me, un festival pieno di sorprese. Non perdete l'opportunità di essere tra i primi a scoprire tutti i dettagli sulla performance di Mahmood con Tuta Gold a Sanremo 2024. Rimanete sintonizzati su Radio Pugginio NER per ulteriori aggiornamenti e per vivere insieme a noi l'emozione di questo Festival di Sanremo 2024. Grazie per essere stati con noi oggi qui a Radio Pugginio NER dove la musica trova la sua casa.